Va bene, vediamo che altro esce fuori dal fiume. Bocca aperta rimane anche lo spettatore nel vedere finalmente una messa in scena dei Vangeli quasi sempre fuori da una comoda retorica e che presenta una maddalena che comprende appieno il senso della resurrezione. Mentre io la sguattera del peccato, la mente catta con le mani bucate. Ho trovato nel piano la mia gloria. Un Giuda che riesce ancora a spiazzare. L'ho fatto perché mi andava di farlo. Allora, Remo Girone va bene, ma era la rappresentazione della croce scritta da Giovanni Rabboni prodotta dallo stabile di Palermo con la regia di Carriglio. Questa maddalena è molto bella. Poi ne ho incontrate molte altre. Una, per esempio, che metto sempre nel recital di poesie diomaternamente ma anche in altri recital è quella scritta in versi da Gibran. Anche lì c'è una pagina sulla maddalena bellissima. Senti, tu hai detto che si può vedere un percorso spirituale come una gabbia, come una rinuncia, mentre invece è uno scioglimento di catene, di lacci, e la libertà di portare una croce, di accettare un martirio. Questo ribaltamento, attraverso queste tue parole, sul concetto della croce come qualcosa che può opprimere e invece è qualcosa che può liberare. Sì, oddio, la storia del nostro cattolicesimo, penso anche, non so, a persecuzione degli ebrei, piuttosto che ai roghi delle streghe, ha dato sempre quest'immagine un po' costrittiva e punitiva. Penso che il cammino spirituale invece sia un cammino di liberazione, di tante cose. Io nella mia vita mi sono ritrovata leggendo, certo non c'è bacchetta magica, almeno per quel che mi riguarda, significa la lettura di ogni giorno, lo studio di ogni giorno, la preghiera di ogni giorno, allora piano piano ho visto che i meccanismi mentali cominciavano a mutare, allora rispetto anche a delle offese sul lavoro, private, cominciavo a reagire in modo diverso, mi liberavo dal rovello, cominciavo a avere compassione dell'errore dell'altro, certo uno si deve più o meno difendere, ma senza contrattaccare, veramente mi è cambiata la vita, ha cominciato a cambiarmi la vita in un grande senso di liberazione. Faccio sempre, se ho un attimo, un esempio, io ho girato un film con le ancelle di Brescia, loro hanno vari centri per malati terminali di cancro, bambini poveri, ospedale, ma anche un centro per i malati di AIDS. C'era una suora che io adoro, mia amica, Sor Celestina, che stava pulendo un signore, che si chiamava Mauro, che ormai non parlava più, era proprio agli ultimi giorni, che aveva rapinato la famiglia a mano armata per comprarsi la droga, era andato in Oriente, aveva seminato l'Oriente di bambini siero positivi, cioè veramente un disgraziato, quello che si dice, un disgraziato. Fuori dalla grazia di Dio. Ordo, sì, fuori dalla grazia. Lei lo lavava e lui faceva un... E lei faceva, me riconosce, ti me riconosci, bello il mi Mauro, chi te l'avesse detto che ti finivi nelle mani di una monaca. E lo puliva, lui era contento di lasciarsi pulire. In lei non c'era giudizio, c'era solo accoglienza. E pensavo, pochi anni prima, vedendo lui, no, sesso, droga e rock and roll, ora, povero rock and roll, non si merita ad essere la bambina, ma insomma, diciamo, con una vita, e una che fa la monaca sempre a pulire gli escrementi degli altri, no, a raccattare i rifiuti delle vite disastrate, eccetera, avresti detto, ma lui sta godendosi la vita e lei se la sta castrando. A distanza di poco, vedevi uno finito e Celestina col sorriso da qui a qui. E io una volta gli ho chiesto, ma non entri mai in crisi, perché stare lì dalla mattina alla sera è mica facile. Eh beh sì, perché certe volte sì, l'altro giorno mi è scappata una, che era sei mesi, che si era riconvertita. No, dico te, no, tu sentri, lascia perdere, tu sentri, tu. Ah, mi, mi, dico sì, ti, ti, c'è a mi. Mi, a no, mi, go, lu. Mi hai fatto ricordare un'esperienza invece vissuta, ormai siamo in vena, no, di confessioni, un'esperienza vissuta a Calcutta, a Caligat, alla casa dei moribondi di Madre Teresa, dove appunto la stessa domanda la feci alla suora superiore, che gestiva appunto questo posto che da un punto di vista con un occhio non adeguato sembrerebbe un posto infernale, perché gemiti, lamenti, pianti, odore di disinfettante, tutta gente che ovviamente stava per spirare. E quindi gli chiesi come faceva ad avere questo sorriso che non era un sorriso ebete, un sorriso di incosciente, ma era un sorriso appunto perfettamente consapevole. E la risposta fu identica a quella di Suor Celestina, si chiamava la tua amica? Si chiama. Si chiama, ecco appunto, che quella si sorride perché erano in grado di vedere Gesù nella persona da accudire. Guarda, io ho letto spesso le cose di Madre Teresa, no, per il mio lavoro, per i miei recital, perché poi ho cercato... Abbiamo anche sentito l'inizio, eh? Eh sì, esatto, ora vivi la vita. Cerco poi col mio lavoro, come dire, non solo di crescere attraverso il mio lavoro, ma anche viceversa, di portare nel lavoro le esperienze più belle. Quindi spesso ho fatto cose a tema spirituale nella mia carriera, le ho anche commissionate. Beh, ho letto certe volte delle cose di Teresa, che poi sai quando ci vai dentro che lo studi, no? Trovi una tale apertura, cioè davanti a te lascia uno spazio di non giudizio dove c'è solo accoglienza e allora veramente ti senti chiamato per nome. Ti voglio confessare una cosa, ed è la prima volta che la dico a voce alta, te lo giuro. Quando mi sento veramente giù, veramente in crisi, veramente che non sono contenta di me, che vorrei essere migliore, io immagino quella sua mano nodosa è come se le prendessi la mano e le chiedessi portami tu.